... Per l'avanzata di Cutrone, destro a giro, Etiam! ...sempre sulla corsia, in mezzo per... Cutrone si gira, Patrick Cutrone! ...doppietta per lui, 4-0 Milan, e si apre la golezza. Per l'avanzata di Cutrone... ...Vido è proprio Cutrone che può spingere ad esterno il tocco in direzione di Vido. Conclusione rasoterra, compagno, arriva leggermente... ...doppietta per lui, 4-0 Milan, e si apre la golezza. ...doppietta per lui, 4-0 Milan, e si apre la golezza. ...permente a superare l'ultimo, ma è Caparbio. E poi... ...doppietta per lui, 4-0 Milan, e si apre la golezza. ...doppietta per lui, 4-0 Milan, e si apre la golezza. Riesce a trovare il compagno Cutrone, Cutrone prova l'azione personale di potenza, grande potenza da parte di Cutrone che poi conquista con il pallone, è ottimo. ...e lì là li può alimentare l'azione, lo fa cercando Cutrone, il numero di Cutrone che poi prova il tiro, deviato in calcio d'angolo da... ...Ama di finta e controfinta, Ama di ingrazione ad ad rigore... Cutrone! ...e lo pallone che termina a lato di un nullo... ...un sesso palla Milan, Contorasi, Cutrone controllo sinistro, Fiamm, nega l'1-0 al Milan. Patella è pronto, Cutrone, dagli 11 metri parte Cutrone, 1-0 Milan, la rete di Patrick Cutrone che porta... ...per avanzare, va a chiudere Patrignani, cross per Cutrone, Cutrone, 3-1 Milan, il gol di Cutrone. ... ... ... ... Particolare da Amadi, adesso Saju può spingere sul lato corto nell'area di rigore, cerca il cross per Cutrone, Cutrone! ...e sono tre, Patrick Cutrone... ... 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 interessante sbaglia adesso lo spezza cutrone prova da proprietà nel scambio con Vito palla di ritorno cutrone duello con Maicini cutrone re di ricorda conclusione di cutrone il pareggio del milan Gabbia alla Cush cutrone la conclusione e c'è la doppietta personale di Patrick cutrone il due Grazie a tutti